Un saluto a voi che ci seguite su formobiles.info Video da Huawei P8 senza stabilizzazione attiva Ho visto che il telefono ha anche una voce per attivare la stabilizzazione ottica dell'immagine Ho disattivato anche quella Mi sembra strano che in realtà noi possiamo andare a disattivare la stabilizzazione ottica Tramite software Però la prendiamo per buona E vi faccio un pochino vedere come si comporta Ritornando poi sul distante Adesso ci spostiamo Adesso sto camminando lentamente E ho sempre tenuto il telefono con due mani Adesso lo impugno con una mano e mi avvicino alla fontana Per farvi vedere come si comporta nella stabilizzazione dell'immagine Senza avere nulla attivo E' chiaro che nell'utilizzo normale non c'è motivo Un piccione ci ha fatto un volo radente Non c'è motivo per tenere la stabilizzazione disattivata Non c'è proprio nessun motivo Direi che può bastare così Ripeto video in full HD Da Huawei P8 Un saluto Da 4Mobiles.it Da 4Mobiles.it